Salve ragazze, questa volta un video con i prodotti più utilizzati del periodo comunque prodotti a cui onestamente mi rendo conto che rinuncio veramente raramente scusate tutti niente e iniziamo subito, non l'avevo già provato a registrare il video quindi questo l'avevo già tolto, poi mi sono dovuta fermare per memoria insufficiente ma il primo prodotto che è uno di quelli a cui non rinuncio mai o quasi mai è il correttore di Nabla ed è l'1.0, uno dei più utilizzati tra l'altro sto affinando anche quello che avevo preso per lavoro che era il 3.0 uno degli ultimi rimasti proprio perché poi è una vita che non ci danno notizie del 3.0 comunque questo è il colore invece dell'1 e mi piace moltissimo, veramente non ho nulla da dire su questo correttore ero molto scettica e invece non va nelle pieghe, rimane fermo, copre il giusto e tutto con sottotoni caldi quindi fantastico ve lo faccio vedere magari un po' sfumato mi sono solo resa conto che ultimamente forse proprio perché sta affinando, sta battendo gli ultimissimi colpi fa più fatica a stendersi, mi sembra un pochino più pastoso anche rispetto a quello che ho in negozio è un pochino più pastoso ancora poi un altro prodotto che sto utilizzando tantissimo perché vorrei finire soprattutto essendo quella appunto in mini taglia è la Cannes di Neve Cosmetics questa me l'avevo comprata io insomma mi pare all'epoca sì perché non c'è scritto maggio né niente comunque risale a veramente parecchio tempo fa ha 12 mesi di pau, non che io me ne curi molto perché essendo una polvere insomma viene da sé però questo è appunto il colore e questo è lo swatch ovviamente diventa trasparente quella che vedete sopra è la matita nera di Nabla che con delle salviettine non proprio struccanti salviettine umide classiche non viene via ovviamente ecco la vedete ancora qui non vestesa appunto è bianca, state molto attenti a stenderla bene mi trovo molto bene la sto utilizzando soprattutto perché comunque vorrei finire proprio la vorrei smaltire quindi la utilizzo molto spesso tra l'altro non mi secca molto la pelle da quando soprattutto sto utilizzando ma vi ho parlato nell'altro video il pennello della Real Technique questo qui il face brush il duo fibre ovviamente questo lo prelevo il prodotto nel tappino e poi essendo anche leggermente piatto forse non si vede però è leggermente piatto vado proprio a tamponare quindi a fare così sul viso in modo tale anche da non lasciare un effetto eccessivamente finto ma da farla entrare anche bene quindi spolverato ma anche poi tamponato e devo dire che comunque fa il suo un prodotto che invece ho paradossalmente riscoperto e dico paradossalmente perché è una terra io non che sia un amante delle terre anche se in questo periodo le sto utilizzando molto di più io le utilizzo sempre però insomma non ne ho mai tante aperte perché comunque cerco sempre di concentrarmi su poche per finirle perché poi insomma è tosto finire le terre invece in questo periodo mi ho preso un po' la fissa quindi ho ripreso qualche terra che avevo avviato e questa appunto è Calari che era uscita tra l'altro quest'estate se non erro questa è la versione grande perché comunque mi è convenuto insomma di terre minerali non ne avevo e ho voluto provare lei questo è lo swatch molto 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 sfumato per farvi vedere appunto che non come cipria come dice qualcuna ma come terra va bene anche per le caragioni molto chiare e questo è lo swatch invece un pochino più intenso eccola qua e la utilizzo per scaldare un pochino l'incarnato la utilizzo tantissimo anche qui con il duo fibre però quello piccolino per gli occhi per dare un pochino di profondità all'occhio per renderlo subito più intenso anche magari ho messo soltanto un filo di mascara e un ombretto chiaro su tutta la palpebra mobile con questa comunque acquista subito di profondità e onestamente mi trovo benissimo sono contenta di averla presa nella taglia grande perché effettivamente mi piace molto mi piace molto di più rispetto ad esempio alle altre cipre di neve e tra l'altro appunto gli sto dando sotto e questa appunto era calari di neve un altro prodotto che sto strautilizzando ma questo vi dico la verità perché lo vorrei finire più di un mese che no più di un anno scusate che è aperto e quindi vorrei terminarlo non ha cambiato odore non ha cambiato nulla però insomma è ora di terminarlo e tra l'altro mi dura anche tantissimo quindi è il gloss di Zui non è particolarmente appiccicoso mi piace molto non è il rossetto liquido questo è proprio un gloss non vi so dire la colorazione purtroppo perché era nella scatolina che ovviamente ho buttato però magari se me la ritrovo poi in negozio cioè se ritrovo il corrispettivo in negozio ve lo scrivo qui sotto e vabbè mi piace tantissimo ovviamente non sono un amante dei gloss però come vedete qui si tratta di un prodotto luminoso ma non iperglitterato e soprattutto non è uno di quei gloss che appena si respirano via quindi lo utilizzo e lo utilizzo con soddisfazione un altro prodotto che sto utilizzando con soddisfazione anche se onestamente un pochino mi secca poi forse avete già visto o vedrete comunque il video haul di Paola P è la Lip Pencil numero 5 appunto di Paola P che è grossissima ed è quello che è abbinata è abbinata appunto alla mi pare a Tosca al rossetto Tosca utilizzo anche molto il rossetto perché tra l'altro è molto confortevole sicuramente più confortevole della matita che è questa qui si vede che si vede che è utilizzata e la utilizzo molto perché poi sopra ci metto appunto il gloss che vi dicevo quindi comunque questa più quello mi dura tranquillamente e un altro prodotto che sto stra utilizzando e questo è conciato malissimo faccio fatica comunque a sistemarlo ma anche perché anche lui sta abbattendo gli ultimi pezzi ha un pao di 6 mesi ed è il mascara le film noir di NABLA eccolo qui è ancora nerissimo e ripeto sta abbattendo gli ultimi colpi non tanto perché si è seccato si è un po' addensato e per fortuna ma proprio perché comunque faccio fatica a prenderlo quindi vado nei bordini con lo scovolino che tra l'altro lo si sta anche un po' storcendo perché appunto andando a prelevare in modo un pochino energico si rovina però un prodotto che mi è piaciuto tantissimo l'utilizzo proprio con tranquillità magari faccio una passata soltanto nel pomeriggio dalla seconda passata per un look un pochino più più intenso però anche per tutti i giorni va bene ma va benissimo anche per le serate perché comunque ho un maschera che tiene non cola anche se avete un evento oppure se comunque c'è l'umidità ovviamente lui gli rimane ora non che io abbia grandi serate mondane quindi oggettivamente non so dirvi in discoteca perché non sono insomma non vado quindi non lo so dire però ripeto resiste comunque a tutta la giornata di lavoro resiste tranquillamente alla pioggia non è waterproof però insomma a meno che non vi andiate a bagnare gli occhi proprio con un getto d'acqua diretto state tranquille e un altro prodotto io ho già fatto lo swatch quindi questi sono i due colori che sto utilizzando tantissimo e anche qui si vede è la matita per la più scura anche se ormai non è più la più scura perché ne sta uscendo un'altra black brown di neve io onestamente c'è stato un periodo in cui ho cercato di alternarla al gel per sopracciglia di MAC che comunque è un pochino più definito cioè definisce un pochino meglio le sopracciglia le fa un pochino più quello effetto hollywoodiano per carità mi sono venuti dei brufoli sotto pelle dei comedoni qualcosa che comunque mi ha dato fastidissimo quindi ho ripresa utilizzare lei la utilizzo anche sopra appunto all'unico diciamo brufoletto che mi è rimasto sotto le sopracciglia sono anche un po' soggetta io in quella zona e devo dire che comunque non mi dà fastidio sta sparendo con tutta tranquillità quindi questo è e mi piace molto anche soltanto per riempire la parte iniziale delle sopracciglia verranno lasciare i buchetti ci piace come sapete appunto ha il pettinino questi sono i prodotti che sto più utilizzando in questo periodo diciamo che nelle ultime due settimane ci sono state delle new entry importanti però quelle ve le recensisco a parte quindi fatemi sapere se invece su questo avete qualche dubbio avete qualche curiosità ciao ragazze grazie a tutti